Il nostro telegiornale è stata incastrata dal sistema antitaccheggio installato all'ingresso del negozio. A bloccarla, una volta scattato l'allarme, era stato il responsabile dell'attività commerciale che aveva chiesto l'intervento della polizia. Per la cittadina dell'est europeo, colta in fragranza di liato, era scattato l'arresto. Adesso per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari. Furto in una gioielleria di via Gioeni ad Agrigento è accaduto la scorsa notte. Verosimilmente tra domenica e ieri ad agire i soliti ignoti, i quali hanno dapprima sfondato, a quanto pare, con una mazza la vetrina blindata dell'attività commerciale. Poi una volta al suo interno si sono impadroniti di cinque preziosi orologi di varie marche e alcuni oggettini in oro. Il valore del danno è ancora da quantificare, ma secondo una prima stima monterebbe a diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma del nucleo operativo radiomobile che hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno già visionato le immagini di alcune telecamere della zona per tentare di dare un volto ed un nome ai malviventi. I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato un bracciante agricolo di 46 anni, FP. Queste le sue iniziali, il quale, nonostante gli era stato imposto il divieto di avvicinarsi all'ex moglie, si è recato lo stesso presso l'abitazione della donna, l'avrebbe pesantemente minacciata tentando di sfondare la porta di casa. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Il palmese risponderà di atti persecutori, minaccia grave e danneggiamento. Sono 642 i migranti arrivati a Porto Empedocle, a bordo della nave Orione della Marina Militale, dopo essere stati salvati nel canale di Sicilia. Una donna incinta è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Dio di Agrigento. I medici hanno visitato altri tre migranti che presentano sintomi da assideramento, ma non necessiterebbero di ricovero. Tornano a tuonare le armi in provincia di Agrigento. Ieri sera a Naro un killer ha ucciso contro i colpi di pistola il commerciante Salvatore Terranova, detto Tito. Omicidio ieri sera in piazza Francesco Crispi a Naro. Freddato a colpi d'arma da fuoco, il titolare di un negozio di articoli per la casa. Il sicario ha aspettato che la vittima chiudesse l'attività commerciale, poi lo ha raggiunto in macchina una Jaguar grigia e ha fatto fuoco. Almeno tre i colpi di pistola, sparati da distanza ravvicinata, che non hanno lasciato scampo alla vittima. Si chiamava Salvatore Terranova, detto Tito, 56 anni. Personaggio già noto a quanto pare alle forze dell'ordine. Pare che sia stato chiamato in causa da due pentiti che lo hanno indicato come uomo vicino ai clan locali. Da parte loro comunque gli inquirenti non escludono alcuna pista, neppure quella mafiosa. E l'uccisione di Terranova avrebbe tutte le caratteristiche di una vera e propria esecuzione. Pare anche che da tempo la vittima fosse tenuta sotto osservazione dalle forze dell'ordine perché, come indicato da alcuni collaboratori di giustizia, punto di forza della cosca del paese, della Fulgentissima, capace anche di commettere omicidi. Nello specifico, il pentito Salvatore Morello, che si è successivamente autosmentito, lo indicherebbe quale autore del duplice omicidio di Marco Balsamo e Girolamo di Gerlando avvenuto durante la guerra di mafia degli anni 90. Secondo il pentito Morello, Terranova, che aveva anche una rivendita di autovetture al villaggio Mosè di Agrigento, poi chiusa, e negozi di articoli casalinghi a Naro e Palma di Montechiaro, avrebbe fatto parte della cosca di Stefano Marsala. Secondo la prima ricostruzione eseguita dai carabinieri della stazione di Naro e dei colleghi di Licata, territorialmente competenti, oltre che dagli uomini del reparto operativo di Agrigento e della squadra mobile, le cui indagini sono coordinate dal pubblico ministero Santo Fornasier, Terranova, dopo aver chiuso il suo negozio, si è diretto verso la propria auto, una Jaguar grigia, quando è stato raggiunto da un killer che gli ha sparato a bruciapelo. Intanto il sindaco di Naro, Calogero Cremona, dopo l'omicidio di ieri sera e dopo l'increscioso e vile atto intimidatorio che lo ha visto protagonista, ignoti come si ricorderà, gli hanno incendiato il portone di casa di via Specchi, chiederà al prefetto di Agrigento Ricola Diomede la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica da tenersi proprio a Naro. Nella tarda mattinata di ieri, durante un servizio del controllo del territorio finalizzato al contrasto dei crimini connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo operativo radiomobili della compagnia di Sciacca hanno arrestato, in fragranza di reato, Maria Sedita, 44 anni, e Steve Giovinco di 24, entrambi di Ribera, e già noti alle forze di polizia con l'accusa di detenzione e trasporto illecito di sostanza stupefacente. In particolare, il servizio di osservazione e pedinamento predisposto dai militari dell'arma ha interessato gli autobus di linea che collegano la città di Palermo a quella di Ribera, passando per Sciacca. Così, quando alla fermata di via Circonvallazione a Ribera i due sono scesi dall'autobus, i carabinieri li hanno immediatamente bloccati procedendo alla contestuale perquisizione personale. All'interno della borsa della donna sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi, 375 millilitri di metadone ed un grammo di eroina. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria. La scorsa notte, durante la sfilata dei carri, il campetto di tennis di Viale Hamilton ha racalmuto da poco ristrutturato. E' messo a posto, è stato preda di atti vandali. Ci sono state sfondate e distrutte le porte degli spogliatoi, ma questa volta agli ignoti malviventi forse andrà male, perché l'impianto è stato dotato dall'assessore ai lavori pubblici del Comune con una somma di 20 mila euro, oltre dell'illuminazione anche del sistema di videosorveglianza. Quindi, a breve, i protagonisti della bravata potrebbero, usiamo il condizionale, essere individuati. Naturalmente, l'amministrazione comunale condanna il vile gesto che non fa altro che deturpare quanto di buono si cerca di costruire. Quello che prima poteva essere considerato solo un gesto di puro divertimento per qualcuno, ora rischia di trasformarsi in qualcosa di pericoloso nel momento in cui si conosceranno i nomi degli autori dell'insano gesto. Hanno approfittato del fatto che si celebrasse in quel momento il culto evangelico ed hanno rubato due scooter. È successo ieri sera in via Lautrec-Toulouse, nel cuore del quartiere Margia Gela, dove sorge una chiesa evangelica e dove si celebra regolarmente il culto. I tantissimi giovani presenti lasciano il motorino fuori dalla chiesa convinti che nulla possa ovviamente accadere. Ieri sera, invece, due di loro hanno avuto la sgredita sorpresa di non ritrovare più i loro scooter. Qualcuno li aveva rubati, forse utilizzando addirittura un furgone. I proprietari lo è rimasto altro da fare che sforgere denunce. Una giovane coppia di fidanzati licatesi ha perso la vita nel primo poveriggio di ieri lungo la statale 115 che collega Licata a Congela. L'auto sulla quale viaggiavano è andata a schiantarsi contro un camion frigorifero. E di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo poveriggio di ieri al chilometro 239 della strada statale 115 che collega Licata a Congela e più precisamente all'altezza della curva dello scoglio incontrata a poggio di guardia a pochi chilometri da Licata. A seguito del violento impatto tra un'autovettura Ford Fiesta ed un camion frigorifero utilizzato per il trasporto e la frutta hanno perso la vita una coppia di fidanzati licatesi mentre il conducente del pesante mezzo è rimasto ferito. Le vittime sono Paolo Todaro, 30 anni e Sara Camilleri, di 23. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e ambulanze del 118, gli agenti della polizia stradale di Gela. È toccato ai vigili del fuoco il compito più ardo, ovvero quello di estrarre il corpo delle due vittime dalla lamiere contorte della loro autovettura. Intanto è poco chiara la dinamica del sinistro anche se pare che ad aver avuto un ruolo determinante nell'impatto possa essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Dai primi rilievi effettuati alla postata di Gela l'auto con a bordo la coppia di fidanzati stava tornando a Licata dopo essere stata nell'appezzamento di terreno del ragazzo. Sulla corsia opposta invece il camion diretto a Gela. Cosa sia capitato dopo non è dato al momento sapere con certezza. Di certo c'è che due giovani vite sono state spezzate. Il traffico veicolare ha seguito l'incidente è rimasto paralizzato fino a quando non sono stati ultimati i rilievi e rimossi i cadavri dei due ragazzi e di mezzi coinvolti. L'ANAS per questo motivo è stata costretta a deviare la circolazione sulla strada statale 626. E intanto il commissario straordinario del comune di Licata Maria Grazia Brandara nel cogliere la spontanea partecipazione della cittadinanza in particolare del mondo giovanile nonché di amministratori ed esponenti di tutte le forze politiche delle organizzazioni sindacali e sociali presenti sul territorio con propria ordinanza ha proclamato per oggi giorno dei funerali il lutto cittadino per commemorare i due giovani fidanzati Sara Cammillere e Paolo Todaro morti tragicamente nel primo pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Poggio di Guardia. L'onorevole Brandara impossibilitata a partecipare ai funerali perché impegnata a Palermo ancora prima di proclamare il lutto cittadino ha inviato un telegramma ai familiari delle due giovani vittime della strada ed ha pubblicamente voluto esprimere il dolore del cordoglio di tutta la città del personale dipendente del comune e suo personale per una tragedia che coinvolge non solo i familiari e gli amici delle due giovani vittime ma l'intera comunità licatese con la proclamazione del lutto cittadino il commissario ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezzasta in tutti quanti gli edifici pubblici presenti sul territorio e la sospensione di ogni manifestazione in programma per oggi giorno di carnevale in conseguenza di ciò gli organizzatori della grande festa di carnevale in programma questa sera in piazza Sant'Angelo hanno già preannunciato la sospensione della manifestazione con probabile rinvio al 21 marzo prossimo anche il presidente del consiglio comunale Saverio Platamone che invece sarà presente ai funerali assieme a diversi altri consiglieri è intervenuto per esprimere in particolare il cordoglio e la vicinanza alle famiglie di Sera Camilleri e Paolo Todaro dall'intero consiglio e di tutta quanta la società civile licatese e invece di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che stamattina ha visto coinvolte due autovetture a scontrarsi in via Valeria nel rione Fondo Iozza sono state una Fiat Brava con a bordo una donna ed una Lanciabusa con a bordo un'altra donna con la figlia di circa 7 anni sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 sia le donne quanto la bambina sono state soccorse e trasportate in ospedale hanno riportato vari traumi ma nulla di grave a Palma di Montechiaro i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in fragranza di reato Ahmed Azeb 27 anni e Ali Vakas di 24 entrambi pakistani e ospitati presso una struttura della cittadina denunciato invece il stato di libertà un 24enne anche lui pakistano eppure lui ospitato in una struttura d'accoglienza della cittadina perché resisi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso in particolare i carabinieri nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio nel centro cittadino particolarmente affollato in occasione di festeggiamenti per il carnevale sono intervenuti in piazza Matteotti attirati da alcune grida dove hanno accertato che i due approfittando della confusione dovuta ai festeggiamenti avevano rubato uno smartphone da uno zaino in spalla ad un ventenne studente di Palma di Montechiaro erano stati scoperti scatenando la reazione di una parte degli spettatori una volta riportata la calma i carabinieri hanno raccolto denuncia e testimonianze che hanno portato all'arresto dei due i carabinieri inoltre hanno accertato che i due pakistani dopo aver asportato il cellulare dall'interno dello zaino lui avevano consegnato un terzo complice che si era allontanato con la refurtiva facendo perdere le proprie tracce ma successivamente individuato e denunciato in stato di libertà sei colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la finestra del magazzino dell'ex cantina vitivinicola solevin di contrata spagnolo a Naro è accaduto la scorsa notte e l'atto presumibilmente intimidatorio era rivolto a una proprietà della società cooperativa La Vite che ha sede a Riesi il legale rappresentante della cooperativa l'attuale sindaco del comune Savatore Chiant eletto nel 2013 nelle file del centro-sinistra i carabinieri di Naro che indagano sull'accaduto hanno ritrovato sul posto sei bossoli e stanno cercando di capire se l'atto fosse rivolto alla cooperativa o proprio indirizzato al primo cittadino del comune Nisseno se si verificasse che l'azione era rivolta al sindaco si tratterebbe dopo l'incendio applicato al portone del sindaco di Naro Lillo Cremona fatto avvenuto lo scorso 21 gennaio di un episodio che ha del preoccupante in questo caso infatti i due eventi si sommerebbero potrebbero essere il sintomo di qualche espressione del malaffare in danno di amministratori locali su cui gli inquirenti adesso cercheranno di fare luce numerosi imputati dell'operazione antimafia Nuova Cupola si sono visti ridurre le pene che erano state loro inflitte in primo grado al processo d'appello denominato Nuova Cupola è stato assolto Gaspera e Carapezza a cui in primo grado erano stati infritti 4 anni di reclusione e 4.000 euro di multa l'uomo è difeso degli avvocati Gianfranco Pilato ed Ernesto D'Angelo decise altresì sensibili riduzioni di pena per numerosi imputati questa è la risultanza del secondo processo relativo all'inchiesta antimafia che aveva portato 51 soggetti quasi tutti agrigentini in carcere perché accusati di essere il nuovo fronte di Cosa Nostra in provincia di Agrigento intanto 13 anni invece di 20 anni di reclusione sono stati infritti a Francesco Ribisi di Palma di Montechiaro difeso dall'avvocato Daniela Posante 6 mesi in più per il suo presunto braccio destro Giovanni Tarallo di Santa Elisabetta difeso agli avvocati Nino Gazziano e Giuseppe Barba che in primo grado aveva avuto 20 anni 3 anni invece che 6 in continuazione con il processo cupola al boss di Sambuca di Sicilia presunto capo provincia Leo Sutera difeso dall'avvocato Grillo 6 anni e mezzo per Antonino Gagliano 42 anni in primo grado 10 anni e 8 mesi 11 anni invece per Giuseppe Infantino difeso dall'avvocato Totò Pennica in primo grado gli erano stati infritti 14 anni e 4 mesi 8 anni e 8 mesi invece per Natale Bianchi a cui in primo grado erano stati infritti 10 anni e 4 mesi difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo 4 anni invece per Fabrizio Messina in primo grado gli erano stati infritti 9 anni difeso dall'avvocato Pennica 7 anni e 8 mesi invece per Pietro Capraro in primo grado 9 anni e 4 mesi difeso dagli avvocati Castronovo e Sinatra 6 anni e 4 mesi per Dario Giardina in primo grado gli erano stati infritti 8 anni e 8 mesi 8 anni invece per Luca Cosentino in primo grado 12 anni e 6 mila euro di multa difeso dagli avvocati di Miceli e Noto Millefiori 4 anni per Antonio Orlando 61 anni di Baucina in primo grado erano stati infritti 6 anni Lucio Francesco Vazzano 6 anni e 4 mesi e Giuseppe Anzalone di 46 anni di Ventimiglia di Sicilia in primo grado gli erano stati infritti 6 anni di reclusione condannati Pietro Capraro Luca Cosentino Antonino Gagliano Giuseppe Infantino Fabrizio Messina Francesco Ribisi Leo Sutera Giovanni Tarallo e Natale Bianchi al pagamento delle spese in 2 mila euro a Camera di Commercio di Agrigento Centro Studi Pio La Torre Comune di Agrigento Confartigenato Agrigento SS Democrazia Federazione Antiracchette Italiane Associazione Libero Futuro Agrigento Convindustria Agrigento Convindustria Centro Sicilia e anche Agrigento Giuseppe Anzalone Pietro Capraro e Natale Bianchi sono stati condannati al pagamento delle spese 2 mila euro affrontate da Alfonsina Drago ditta individuale Associazione Testimoni di Giustizia Associazione Libere Terre Antonino Orlando condannato al pagamento delle spese 2 mila euro affrontate dalle parti civili Gerlando e Angelo Russello titolari della ditta Gen An Costruzioni La minaccia terroristica ha già i disti alle porte del nostro paese solo 200 miglia separano la Sicilia dal nord della Libia oggi terra di conquista del califato fatti che disegnano uno scenario estremamente preoccupante anche per l'Italia per l'Europa tutta suffragato dalle minacce rivolte dai gruppi del terrore che si riscono sotto la bandiera dell'Isis e che richiede una gestione estremamente responsabile da parte degli stati dell'Unione delle grandi potenze USA Russia e Cina in testa degli organismi internazionali una situazione di gravità estrema nella quale la missione Triton rischia di facilitare drammaticamente gli obiettivi di fanatici sanguinari l'Isis vuole invadere l'Europa un'operazione che ha già avuto inizio con l'invio di membri disarmati che sono però pronti ad armarsi e a combattere così dice il senatore Vincenzo Gibbino membro del comitato di presidenza di Forza Italia e coordinatore azzurro in Sicilia alle 12 di questa mattina al comune di Deli è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane di San Cataldo Aldo Naro neolaureato in medicina e chirurgia con 110 in lode morto a 25 anni a seguito di una rissa scoppiata per futili motivi durante una festa in discoteca a Palermo il momento di raccoglimento indetto dal sindaco bancheri con una circolare interna rivolta ai dipendenti comunali vuole essere uno spunto di riflessione sulla stupidità e inutilità delle violenze che ci qualifica come bestie piuttosto che esseri umani pensanti e provisti di ragione a Delia la notizia della brutale morte del giovane Aldo Naro ha destato dolore e sbigottimento nessuno riesce ancora a credere a quanto è accaduto una serata di festa un momento di gioia che si trasforma in tragedia il dolore dei genitori e ad essi bancheri esprime tutta la sua solidarietà insieme a quella della giunta comunale gli ha colpiti una tragedia immane e assurda gli siamo tutti vicini per alleviare il loro strazio questore di aggrigento Mario Finocchiaro dopo un periodo di affiancamento negli uffici della questura ha disposto l'assegnazione di tre nuovi funzionari recentemente assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del centotresimo corso di formazione per commissari si tratta del commissario capo Marco Alletto assegnato al commissariato di pubblica sicurezza dedicata in qualità di dirigente andando a ricoprire il ruolo lasciato vacante dal commissario capo Stefano Minardi che dal mese di settembre scorso ha assunto la dirigenza della squadra mobile il commissario capo Tommaso Amatta invece è il nuovo dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e prende il posto del commissario capo Alfredo Cesarano che andrà a ricoprire il ruolo di dirigente dell'ufficio immigrazione ufficio peraltro già diretto dal commissario capo Damiano Lupo nuovo dirigente del commissariato di PS di Sciacca nella conduzione dell'ufficio immigrazione il dottor Cesarano sarà collaborato dal commissario capo dottoressa Marcella Di Rocco assegnata al citato ufficio quale funzionario ha detto nella mattiata di oggi presso la sala gialla di Palazzo di Normani a Palermo si è tenuto un dibattito sulla ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia e sulla necessità di completare la riforma ad organizzare l'iniziativa il forum per l'acqua pubblica del parlamentare regionale Giovanni Panepinto promotore del decreto legge sulla gestione pubblica delle risorse idriche vi hanno partecipato sindaci consiglieri comunali amministratori locali esponenti di associazioni e movimenti per la ripubblicizzazione dell'acqua sono intervuti il presidente regionale dell'Ancelio Luca Orlando il presidente della commissione territorio e ambiente all'AS Giampiero Trizzino e l'assessore all'energia Vania Contrafatto Aulularia è il titolo della commedia di Plauto che verrà rappresentata al GAD Piccolo Teatro di Canicati giovedì 19 e venerdì 20 al teatro sociale di Canicati con ingresso libero l'iniziativa e del Chivanis Club Parnaso di cui è presidente Graziella Licata sentiamo qualche anticipazione da Vincenzo Cipollia prosegue l'attività sociale del Chivanis Club Parnaso di Canicati giovedì e venerdì al teatro sociale c'è questa commedia di Plauto Sì come ogni anno cerchiamo in questo periodo di realizzare qualcosa di bello di divertente per i nostri cittadini indubbiamente la preparazione di questa commedia diversamente alle altre è stata una preparazione molto difficile e impegnativa in quanto abbiamo dovuto tradurre dal latino in dialetto siciliano questa commedia di Plauto L'Aulularia che rappresenta sicuramente una tra le più belle commedie che l'autore ha scritto intorno al terzo secolo avanti Cristo la traduzione è stata effettuata dal professore Antonio Scrimali che l'ha anche adattata diciamo ai nostri tempi perché non poteva essere non poteva essere diversamente e quest'anno noi abbiamo proprio pensato di fare di realizzare questo spettacolo per allietare in un momento veramente di grande tristezza per la nostra nazione diciamo per il nostro paese perché noi viviamo a Caneghetti un momento di gioia per i nostri concittadini l'ingresso sarà gratuito e libero quindi chi vuole venire può venire noi speriamo di poter dare un momento di gioia e di felicità e visto che siamo a inizio di anno nuovo di augurare un buon anno a tutta la cittadinanza grazie i protagonisti saranno quelli del GAD i protagonisti sono quelli del GAD l'autore principale diciamo sarà Antonio Sanvilippo che farà la parte di Euclione io farò la parte di Megadoro un vecchio patizio romano che vuole sposare anche se un pochettino diciamo avanti con gli anni vuole sposare una ragazza anziché diciamo una donna di una certa età che ritiene lui che essendo un anziano sposandosi con una giovane la sua vecchiaia si può non la sua vecchiaia si può rinnovare diciamo e diventare lui ancora giovane come ai vecchi tempi comunque è una bellissima commedia fatta bene e noi speriamo di realizzarla attrettanto bene grazie a causa delle proibitive previsioni meteorologiche la cerimonia dell'accensione del tripod è prevista per questo pomeriggio le 18 al Tempio della Concordia verrà nello stesso orario all'interno dell'atrio del palazzo di città di Piazza Pirandello ad Agrigento con questo significativo momento avverrà l'avvio ufficiale della sessantesima edizione del Festival Internazionale del Folclore nell'ambito della settantesima saga del Mandorolo in Fiore che così entra nel vivo le manifestazioni prevedono domani alle 11 le prime esibizioni dei gruppi folclorici in Piazza Cabur e sempre se il tempo lo permetterà lo svolgimento della successiva fiaccolata a partire dalle 17 giovedì 19 ancora spettacoli di folclore in Piazza Cabur all'ex collegio dei padri filippini mentre la serata del Fondo Ambiente Italiano con le elezioni di Miss Sagra e Miss Primavera venerdì sabato doppio spettacolo del Festival Internazionale del Folclore alle 16 e alle 21 al Teatro Pirandello prima della tradizionale conclusione con sfilata e spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia di domenica il Presidente del Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo Maria Grazia Brandara ha inviato una lettera al Presidente della Regione Crocetta per sottoporre a quest'ultimo la possibilità di ricevere a Pazzo d'Orle anzi i componenti del gruppo Il Volo reduci dalla vittoria e dal grande successo riportato a Sanremo la Brandara ha evidenziato come uno dei componenti del gruppo vincitore del Festival della Canzone Italiana sia il 24enne Piero Barone nato a Naro e dal piccolo comune dell'Agrigentino approdato a Sanremo e vincitore assieme ai compagni del Volo dell'Ambito Premia Presidente Crocetta ha sottolineato la Brandara o rappresentato come esempi di questo tipo siano la testimonianza che la Sicilia non è mafia ma arte e cultura che attraverso i giovani onesti e talentuosi si afferma ancora una volta come terra dalle straordinarie potenzialità e il Festival di Sanremo quest'anno ha parlato siciliano e non solo sul palcoscenico a curare l'immagine del dietro le quinte c'era infatti la poliedrica fotografa Sonia Aloisi di Gela si è occupata prevalentemente di immortalare i momenti clu di Emma Marrone che ha condotto la Kermes Canore insieme a Carlo Conti Arisa e Rocio Munoz Morales essere qui a Sanremo per me è un sogno ha detto la fotografa una tappa importantissima per il mio lavoro e i miei collaboratori a coadivare il lavoro della gelese a Sanremo il collaboratore di sempre Luca Milazzo domani inizio della quaresima alle 18 nella chile da Sant'Alfonso di Egrigento il cardinale Francesco Montenegro presiderà la Santa Messa con il rito dell'imposizione del Ceneri ieri a Roma presso la sede del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca di Viale Trastevere il sindaco di Libera Carmelo Pace è stato ricevuto dall'ufficio di gabinetto del ministro Stefania Giannini il sindaco ha chiesto con forza massimo sostegno ed attenzione all'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini con sede nella cittadina Crispina ente strumentale dell'ex provincia ora libero consorzio comunale di Egrigento che sta subendo dall'anno scorso una gravissima e immeritata criticità finanziaria a causa dei tagli alla spesa pubblica Pace è stato accompagnato dal direttore del Toscanini Claudio Montesano dal docente componente del consiglio di amministrazione Riccardo Ferrara il ministero ha assicurato massimo impegno per mantenere a Ribera nel territorio l'istituto Toscanini con la statizzazione anche tramite accorpamento al conservatorio statale che sarà attuale tramite una apposita legge dedicata agli ex pareggiati già allo studio del Senato della Repubblica Comunicazione di carattere sociale la caricatura la caricatura farmacia di turno che garantirà il servizio serale notturno per oggi martedì 17 febbraio e quella di Nicoletti della dottoressa Simona Angela Sita inviata a Vittoria recapito telefonico 022 85 12 61 concludiamo con il meteo secondo salvo condizioni di tempo perturbato sulle nostre estreme regioni meridionali a causa della perturbazione che si arqua attorno al minimo di bassa pressione tra Tunisia ed Algeria attenzione fenomeni anche intensi sono possibili sulla nostra Sicilia orientale e sul Ragusano temperature lieve calo sui versanti orientali 20 tesi da est sud est con mari fino a molto mossi come ci aveva pronunciato il nostro salvo il tempo diventa nuovamente instabile al sud per via di correnti umidi meridionali che accompagnano l'evoluzione di una bassa pressione lenta nel suo movimento piogge ed acquazioni si alterneranno a fasi più asciutte e soleggiate la tendenza sarà verso un ulteriore peggioramento a partire da oggi quando il vertice si porterà dalla Sardegna verso la Tunisia seguirà qualche giorno di bel tempo ma sempre secondo salvo nel fine della settimana avremo un nuovo peggioramento le previsioni del tempo di oggi a Canicattì cielo molto nuboloso o coperto con deboli piogge per l'intera giornata sono previsti 12 mm di pioggia la temperatura massima registrata sarà di 11 gradi la minima di 7 i venti saranno al pomeriggio moderati e proverranno da est sud est secondo salvo tra stanotte e domattina causa un profondo vortice informazione potrebbero formarsi dei temporali con vigoria di scariche elettriche anche di forte intensità ed è tutto grazie per aver profitto l'informazione di Teleradio Canicattì appuntamento ai prossimi telegiornali buon prossimamente con i nostri programmi di Teleradio Canicattì di Teleradio Canicattì di Teleradio Canicattì di Teleradio Canicattì di Teleradio Canicattì